la mountain bike ma giorgio ne sa pacchi è matto lui è matto ma chiediamo cosa ne pensa di tutto c'ho il tuttologo tuttologo abbiamo un quesito si fa in mountain bike questo pezzo tradotto penso si possa fare siamo sotto al simone in mezzo ai suoi figli più piccoli sassolini del sasso simoncelli veniamo stando attenti a non scivolare oggi siamo tornati a casa perché ogni gruppo che si rispetti alla propria casa e noi che ci piacciono siamo nati qui tanti anni fa e qui ogni tanto come il salmone che sale la corrente per deporre le uova torniamo infatti siamo in salita anche noi ci mancano gli orsi e poi siamo a posto no 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 no